Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici, settimana numero 30 del 2022, queste le performance, si va dal più 5,62 di piazza affari al più 1,73 del DAX, con saldi annuali che vanno dal meno 9,61 del Dow Jones al meno 20,66 del Nasdaq. Dopo il pessimo mese di giugno i listini azionari hanno chiuso positivi il mese di luglio, ma vi è stata una netta differenza tra i listini europei e i listini americani. Infatti il Fuzzimib e il DAX hanno registrato nel mese di luglio degli incrementi poco sopra il 5%, mentre a giugno hanno registrato delle perdite superiori all'11%. A Wall Street gli incrementi di luglio sono stati invece superiori rispetto alle perdite del mese di giugno. Questo conferma che la decisione della Fed, che mercoledì ha deciso di restare aggressiva con un nuovo incremento di 75 punti base, basato sulla forza dell'America, è probabilmente fondata. La Fed si è spinta oltre, dicendo che anche a settembre molto probabilmente vi sarà un nuovo incremento da 75 punti base, anche se ha lasciato aperta la porta alla possibilità che il rialzo possa essere anche di soli 50 punti se l'inflazione dovesse registrare una netta flessione. Come se la situazione mondiale non fosse già abbastanza tesa per tutti i vari motivi che conosciamo e che non stiamo ad elencare nuovamente, questa settimana registriamo il ritorno alla ribalta delle cronache del leader nordcoreano Kim Jong-un con le sue minacce nucleari contro la Corea del Sud e gli Stati Uniti d'America. Riscontriamo anche l'intensificarsi delle tensioni sulla questione Taiwan, questione Taiwan che sta man mano diventando sempre più importante. In queste ore la speaker della Camera USA, Nancy Pelosi con un seguito di personalità del congresso, è in volo per l'Asia in un tour che prevede tappe in Giappone, in Corea del Sud, in Malesia e a Singapore, ma a quanto pare è prevista anche una sosta a Taiwan. Questa cosa ha immediatamente scatenato la reazione cinese, vi è stata una telefonata ai massimi livelli tra il presidente Xi e il presidente Biden, Biden ha detto che non può impedire alla Pelosi di fare una sosta a Taiwan, ma il presidente Xi è rimasto molto rigido sulle supposizioni e ha detto che non accetterà nessuna ingerenza degli Stati Uniti all'interno del suo paese. Ritiene pertanto che Taiwan sia una parte fondamentale della sua nazione, manca l'annessione, ma secondo loro è evidentemente solo una questione di tempo. Rimane pertanto una questione molto molto delicata e vedremo solo nei prossimi giorni se l'aereo con la delegazione del congresso tenterà di andare verso Taiwan, nonostante la Cina abbia minacciato che nel caso di avvicinamento di tale aereo verso Taiwan invierà dei caccia a scortare questo aereo e questa azione provocherà probabilmente una violazione dello spazio aereo di Taiwan da parte dei caccia cinesi, quindi Taiwan potrebbe a sua volta mandare i suoi aerei militari. Quindi la situazione diventa decisamente molto critica e per cui ci auguriamo che venga risolta dalla diplomazia e non dalle armi. Uno scontro a fuoco nei cieli di Taiwan, tra aerei di Taiwan cinesi e probabilmente aerei americani perché a questo punto da qualche portaerei del Pacifico sicuramente si leverà in volo qualche caccia americano, ecco la questione non diventa decisamente molto simpatica, in un 2022 peraltro che ne ha già parecchie di grane da risolvere. Andiamo a vedere i nostri grafici, partiamo dal grafico di casa nostra, abbiamo detto miglior listino di settimana Piazza Affari, per tre settimane aveva avuto difficoltà a superare area 21.800, questa settimana ha aperto più o meno in corrispondenza della chiusura, vedete eravamo sull'importante livello dei 21.150, bellissima candela di forza che si è portata al test della resistenza dei 22.4.50, volumi leggermente in calo rispetto alla media, vedremo adesso a questo punto cosa succederà. Se ci sarà la forza di proseguire e allora Milano andrà incontro a questo doppio livello di resistenza dei 22.8.80, 22.9, 23.130 punti e solo il superamento di questo livello potrà poi riportare Milano ad avere una prospettiva positiva per il futuro o se invece rimarrà ingabbiata ulteriormente in questa zona come vedete piena di livelli importanti. Se dovesse anche perdere il livello dei 22.2 ma tenere il livello dei 21.8, vista la situazione del mese di agosto dove notoriamente i volumi diventano decisamente ridotti, sarebbe già una notizia ampiamente positiva. Chiaramente molto dipenderà appunto dalla questione di Taiwan, oltre chiaramente alle solite annose problematiche relative alla pandemia, relative alla guerra in Ucraina, relative a questa nuova crisi sanitaria del vagliolo delle scimmie. Andiamo a vedere il DAX che ha registrato un'altra candela positiva, non si è mosso così tanto come Piazza Affari, ma rispetto a Piazza Affari si era già mosso bene nelle settimane precedenti. Ha tenuto tranquillamente i 13.200 punti, si sta avvicinando al livello dei 13.600 punti, subito sopra c'è un gap 13.750 da andare a chiudere. Se DAX riesce a chiudere il gap e a mantenersi sopra i 13.630 punti, probabilmente potrebbe avere necessità, come in questa fase precedente, di congestionare un pochettino prima di attaccare area 14.130 punti. Vedremo pertanto come procederà e chiaramente se riuscirà a passare questo livello che come vedete è un livello abbastanza importante. Andiamo infine a guardare quanto è accaduto a Wall Street, sta proseguendo la stagione delle trimestrali e un mercato è molto nervoso e sta punendo o premiando forse eccessivamente l'uscita dei dati. Abbiamo visto dei più 11, abbiamo visto dei meno 25, insomma forse reazioni un pochino eccessive rispetto a quelle che sono. La forte politica monetaria messa in atto dalla Fed e da Powell pare che stia dando i suoi frutti, anche se chiaramente nulla di definitivo si è ancora ottenuto. I listini proseguono nella loro reazione rialzista dai minimi annuali di qualche settimana fa e si stanno portando ora su dei livelli importanti. Andiamo a vedere quindi il Dow Jones, vedete che ha proseguito nel suo rialzo dai minimi, i volumi in crescita sono tornati in media, il Dow Jones adesso sta puntando i 33,2 e 60, livello importante che è il livello che è anche il più ravvicinato di una serie di livelli fino ai 34 mila punti che sono praticamente tutta un'unica grossa area di resistenza. Attenzione però che questo primo livello dei 33,2 e 60 è stato un livello che a cavallo tra maggio e giugno è stato già una resistenza invalicabile, pertanto sarà un primo banco di prova. Nuove trimestrali positive evitando la problematica Taiwan, cercando di risolvere qualche altro problemino e magari qualche dato sull'inflazione che ci dice che l'economia americana sta trovando maggior forza e l'inflazione sta calando, potrebbe dare là a che il Dow Jones possa superare questo primo livello e addentrarsi in quest'area di resistenza. Decisamente bene ha fatto il Nasdaq questa settimana, sta proseguendo, la settimana scorsa ricorderete aveva trovato difficoltà nel superare la rialzista, questa settimana l'ha superata di slancio e è arrivata perfettamente al test del livello di resistenza superiore. Adesso vedremo se anche qui con un primo livello di supporto in area 12.600, la resistenza di 12.900, se dovesse passare potrebbe arrivare verso l'area 13.800 e successivamente il livello successivo a 14.060 punti, quindi anche qui la fuoriuscita da questo livello che era già stato sentito precedentemente potrebbe poi portare il Nasdaq a lateralizzare qualche settimana, ricordiamo sempre agosto, mese con volumi bassi, anche se questa settimana come vedete registriamo sul Nasdaq un forte incremento dei volumi, d'altronde sono state molte le trimestrali uscite sul tecnologico e registriamo i più 11 di Amazon e il meno 11 di Intel, solo per dirne alcuni, per cui queste forti reazioni hanno portato chiaramente grosse vendite o grossi acquisti. Chiudiamo infine la nostra analisi con SP500, eccoci qui, anche qui la settimana scorsa ci si era fermati al test dei 4.020 punti, test ampiamente superato a quest'ottava, bella candela, si porta, si allunga, eccoci qui, sempre tra fine maggio e inizio giugno vi era stato il livello dei 4.160-4.170 punti che era stato da resistenza, ci stiamo avvicinando, la volta scorsa chiaramente vi era la dinamica che aiutava a tenere giù i corsi, chiaramente la rialzista adesso si è spostata e ora il livello è diventato un incrocio tra la rialzista e la statica sui 4.240 circa, per cui SP potrebbe avere ancora un pochino di spazio libero per salire prima di giungere finalmente al test questo importante e sarà lì che vedremo se ci sarà ancora forza per l'azionario, superando questo livello si dovrebbe arrivare poi in area 4.370, quindi cominciare a tornare a respirare area di alta montagna. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana, naturalmente c'è sempre gradito il like per la nostra analisi e ovviamente auguriamoci che la diplomazia riesca ad avere ragione delle armi.